Siamo tornati al Camurria in una delle serate che preannunciano ormai un imminente ferragosto. Come potete vedere dal cuore disegnato intorno a me, il tema della serata stasera è l'amore. Andiamo a vedere chi l'ha trovato, chi l'ha provato e chi ancora lo sta cercando. Sono qui con Enzo Pauso, uno dei DJ più noti in città. Come procede la serata? Come procede? Spero bene, la gente balla, si diverte, è buono, è bello, no? Il tema di questa serata stasera è l'amore. Cosa consigli agli innamorati, ma soprattutto qual è la canzone, secondo te, che si dice di più all'amore? Ma non c'è una canzone, ma un mondo senza amore non può andare avanti. Non c'è una canzone, l'amore è il sentimento portante di ogni cosa. Quando sei innamorato ogni canzone è giusto. Ma ogni cosa va fatto con amore, se no non si va avanti. Stasera è la serata dell'amore, sei innamorato? Di cosa? Secondo me, la concezione dell'amore è una concezione sbagliata, in quanto l'amore non persiste nel tutto, ma è il tutto stesso che persiste nell'amore, in quanto l'amore è qualcosa di surreale e mai realizzabile. La realizzazione di se stessi in luce all'amore. Allora siamo di nuovo qui con Walter. Walter vediamo se stavolta ci sei preparato. Quando sei quello della risorsa del piano? Di sette peccati capitali. Allora, superbia, acidia, ira, avarizia, gelosia, e poi non li so, non mi ricordo. Provaci. Gola, allora. Siamo arrivati a? Gola. A Cidia, ira. Non ce la fa. Non ce la faccio, mi blocco, perché c'è lui, lui li sa, lui li sa. Se la Repubblica Italiana quest'anno compie 150 anni, quanti anni compierà fra 24 mesi? Fra 24 mesi. 24 mesi sono due anni. Cioè, ogni anno è 12 mesi, vero? Quindi due anni sono 24 mesi. Quindi se adesso fa 250 anni, tra 24 mesi farà 252 anni. Quanto? 252. 252. Eh. Allora, ragazzi, state finalmente festeggiando lo scudetto. Come vi sentite? Fantastico! È un'emozione unica. È dieci anni che cerchiamo di raggiungere questo obiettivo e adesso l'abbiamo raggiunto. Siamo davvero felici. Grande, Ale. Una domanda sull'amore. So che siete tutti fidanzati. Dove sono le vostre fidanzate? Eh, purtroppo stasera è una festa di... Questa sera è una festa della squadra. Siamo solo maschi. Però in genere usciamo con le donne. Senza donne. Se devi unire la festa, non lo so. Lasciatemi! Lasciatemi! Allora, le parti si... Le parti si sono invertite. Le parti si sono invertite. Adesso io intervisto te. Ok. Questa è la tua seconda sera che fa interviste? Esatto. E come ti sembra questa cosa? Ti sembra una bella... Ah, c'è un altro. Prego, vado. Ciao.